Si è sofferta e ci siamo complicati un po' la vita da soli perché dopo il buon inizio, dopo il vantaggio, potevamo subito andare sul 2-0 e in due o tre occasioni siamo stati poco cattivi. Come ci capita spesso alla prima occasione degli avversari ci fanno gol e poi sappiamo che comunque non è facile giocare contro 11 giocatori dietro la linea della palla. Lo dimostra il fatto che non hanno fatto più un tiro in porta dopo il gol e che per noi sicuramente non è semplicissimo giocare quando trovi una squadra che viene a Frosinone per difendersi. L'abbiamo visto anche negli altri campi, l'Aquila ha vinto a Salerno, il Lecce che fatica con il Barletta, insomma è un campionato complicato e difficile. C'è Frosinone nella scuola da battere ma non vedo tutto questo allarmismo dopo 20 minuti che un giocatore sbaglia un cross o sbaglia un passaggio. I ragazzi vanno aiutati, vanno sostenuti perché non siamo la Roma che hanno visto ieri sera che ha vinto 3-0 giocando un gran calcio. Troviamo delle difficoltà quando certe cose non ci riescono. Bisogna stare tranquilli come abbiamo fatto negli ultimi 20 minuti a non perdere la testa, non farci prendere dalla fretta come abbiamo detto prima della partita. Bisogna stare calmi, non abbiamo rischiato niente dietro, abbiamo creato comunque qualche occasione da gol e alla fine penso che sia un risultato meritato.